È Serena Rossi la madrina della 78esima morte internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Sarà lei quindi a salire sul prestigioso palco della sala grande del Palazzo del Cinema Arlido, sotto gli occhi del mondo, per la cerimonia di inaugurazione mercoledì 1 settembre e poi a guidare la cerimonia di chiusura sabato 11 settembre, durante la quale saranno annunciati i leoni e gli altri premi ufficiali della Kermes cinematografica. Si può dire dunque che la nuova vita del festival ripartirà da dove si era conclusa l'edizione 2020, visto che proprio Serena lo scorso anno era stata una delle protagoniste del film di chiusura In Lasciami Andare di Stefano Mordini, ambientato proprio a Venezia con Stefano Accorsi, che venne presentato alla 77esima mostra di Venezia, per un'attrice ha commentato Serena a caldo, appena ufficializzata in vestitura, essere chiamata a rivestire il ruolo di madrina della mostra di Venezia è un grande onore. So quanto sia stato difficile sonridere in questo ultimo anno e mezzo. A Venezia 78 vorrei ritrovare quei sorrisi dimenticati, vorrei che illuminassero le sale cinematografiche e tutti i luoghi del festival, vorrei che si riaccendessero sui volti di chi non ha potuto lavorare. Ringrazio per la fiducia alla Biennale di Venezia il direttore Alberto Barbera, il presidente Roberto Ciccuto. Sarà un festival importante e io ce la metterò tutta, per tutti.